Grande successo ieri per il premio San Giuliano che ha premiato i 42 studenti giulianesi che sia per la laurea che per la maturità hanno ottenuto il massimo dei voti. Una manifestazione portata avanti instancabilmente da 17 anni dalla Proloco guidata da Mimmo Savino. Per questi ragazzi che sono qui, i quali li abbiamo bloccati, ma proprio perché il nostro intento è quello di metterli a confronto con delle personalità nostre campane, in questo caso anche giulianesi, che hanno fatto strada e si sono rese persone importanti nella vita. E' condotta come sempre magistralmente dal professore Tobia Iodice. Un premio dedicato non solo all'eccellenza del territorio, ma anche a personaggi che si sono distinti per la loro attività a livello internazionale. Quest'anno i riconoscimenti sono andati ad Anna Pirozzi, soprano di origini giulianesi famoso nel mondo, e dal professore Giulio Tarro, virologo di fama mondiale, pluricandidato al premio Nobel, premiato dall'onorevole Tonino Iodice. La chermessa ha premiato anche con una borsa di studio di 1000 euro una studentessa in medicina. La cifra è offerta dai familiari del dottore Guerrera. A premiare i giovani la senatrice Maria Domenica Castellone e il vice sindaco Domenico Pianese.